I'm the bad guy Duh In Vino Civitas è una vetrina per poter esporre i propri prodotti, le proprie eccellenze parliamo di quelli legati alla Cantina di Patrizio Allora praticamente la Cantina di Patrizio è una cantina emergente, nuova, nata due anni a questa parte purtroppo inizialmente abbiamo sposto solamente tre tipi di vini abbiamo fatto Falanghina, Fiano e Aianico nasce come un gioco, un hobby quindi l'abbiamo fatto in modo amatoriale anni fa poi col tempo abbiamo visto che prende piede, piace alla gente, agli amici soprattutto e abbiamo avuto l'idea di creare appunto una cantina situata a Santa Paolina che è un paese nella Vellinese e niente abbiamo creato appunto questi prodotti pure al 100% Falanghina, Fiano e Aianico Ci sono anche altri prodotti oltre questi tre qui che hai nominato? Quest'anno abbiamo iniziato a fare sia il Rosé, il Greco di Tufo e abbiamo da due anni a questa parte il Rosso in botte per fare in futuro il Taurasi quindi a marzo avremo anche il Taurasi nella nostra linea, la nostra gamma e quindi nella prossima edizione di Vino Civitas la cantina dei Patrizi si potrà esporre esatto, prendete anche il nostro Taurasi che sarà il nostro cavallo di battaglia